che italia sono a zellarino provincia di venezia tipo davanti a un centro commerciale tu mi direi perché praticamente ad alessia avevo regalato un xbox con la kinect che volevo tenere in camper dopo detto ma 9a teniamola dalla l'essia ci giochiamo col bozza eccetera non sto diventando ciccione a ma vabbè insomma io era quarto d'altino per un lavoro e leggo su subito punto it era una cosa che mi ero salvato un xbox 360 con 11 giochi tra tra l'altro giochi anche un po importanti tipo gta 5 eccetera eccetera 35 euro richiamo il tipo a ridicolare io sono a quarto d'altino quindi già che ci sono a lungo 15 chilometri sono lì da te dammi solo la conferma per 35 euro o un xbox 360 funzionante con gli 11 giochi della fotografia e la mi fa è no in realtà è 40 euro come 40 euro c'è scritto 35 perché 40 euro è perché mio fratello ha sbagliato a scrivere per 5 euro per carità 11 giochi valgono più di 40 euro hai capito quindi in più c'è anche l'xbox quindi me ne tengo un'altra a tenere in camper e vabbè faccio ok dove ci troviamo ci troviamo davanti qua al centro commerciale polo di zellarino porca troia ho fatto la cazzata di dirgli mi trovi qua col camper così la proviamo potevo star zitto e incularlo alla fine come la proviamo eh si la proviamo eccetera va bene ok dopo un minuto tipo mi richiama eh ma il camper ha le batterie per provarla e faccio eh per forza e faccio ah no perché io adesso sono a padova non so quando arrivo cioè ti aspetto hai capito e quindi adesso vediamo aspettiamo ancora un'oretta circa dopo di che iniziamo a chiamarlo tipo 40 volte al giorno per tutti i giorni in modo da da prendersi la nostra piccola vendetta insomma ecco perché vedi è caduto tutto da quando gli ho detto che l'avremmo provata in camper se è vero che è una truffa io appunto gli romperò le balle a mille magari metto anche il numero nel canale così lo chiamo un po' di gente eh ciao scusa so che hai una Xbox 360 attento attento guarda se andrà così metterò il numero qui sotto in sovraimpressione sì perché io resto dell'idea che la delinquenza non va né tutelata né incentivata e in questo nostro stato italiano è senza ombra di dubbio incentivata e purtroppo lo stato anche la tutela in tutti i modi e questa è una cosa che non mi va giù cioè il fatto che il nostro stato incita la delinquenza in queste maniere no quindi in qualche modo bisogna farci un po' giustizia da soli no e beh non solo la batteria ragazzo c'è anche il monitor hdmi qua per provarla c'è tutto bielo di quello che c'è non manca niente bielo ecco come per la zia immaginavo che non rispondeva più adesso aspettiamo due minuti per vedere se richiama e però vabbè insomma me ne frega me l'Xbox ragazzo di Xbox non chiama più no fa felice povero singano no felice no no povero singano costretto a rimanere con giochi di sua infanzia giochi anni 80 povero singano questo è wonder boy questo ci giocavo in sala giochi quando ero piccolino cioè guardate quanto vecchio è singano quindi italia se anche tu ti ricordi questo videogioco ma non che te lo ricordi negli emulatori nel mame nel pc no no se te lo ricordi proprio nelle sala giochi che frequentavi nei bar sei vecchio THPO ecco sono andato su per il masso quei famosi massi che per prenderla frutta dette te li pigliavi sempre morire sempre qua il famoso angioletto della morte nel senso che per te un angioletto ma per gli altri uccide tutto e tu ti vedi quindi insomma voglio dire una visione un po egoistica no di questi poteri mistici che che ti conferisce il videogioco tech amico di Xbox 360 io aspetta te metti pausa wonder boy metti pausa ma adesso quasi qua io scrivo nel gruppo lo faccio chiamare da mezza italia attento attento si è pronto si ciao a che punto sei più o meno ho fatto l'incidente per colpa tua come un incidente per colpa mia hai capito italia truffatore ascolta niente adesso vediamo se è vero intanto chiamiamo un attimo il mio amico fermo la chiamiamo fabio che fabio è bravo a fare il singano anche marco anche marco molto bravo a far spago bottiglia mosso famiglia no non risponde fabio e sarà fuffattare comorosa vabbè chiamo chiamo marco marco ciao marco sei in linea sto registrando no ascolta un giochetto da fare se sei libero due minuti praticamente io avevo trovato su subito un xbox 360 con 11 giochi a 35 euro mi spuzzava era qua zellarino io ero in zona ho detto dai che facciamo insomma chiamo il tipo alla fine mi fa gli faccio confermi che l xbox 360 funzionante con 11 giochi sì ma è 40 euro perché mio fratello ha scritto male vabbè vabbè insomma dobbiamo trovarsi a minuti qua al centro commerciale di zellarino no e a me è scappato di dirgli vada su in camper quindi ho la corrente il monitor per provarla no 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 non è quello è che dopo mi richiama e mi dice ah ma allora il camper ha la batteria il faccio e beh sì così la proviamo e mi fai no perché sono imbottigliato a padova non so se ce la faccio il faccio e vabbè ti aspetto insomma poi provo a richiamarlo non mi risponde richiamo di nuovo e adesso ha detto ho fatto un incidente per colpa tua quindi tu dovresti fingerti un altro acquirente che ovviamente non mi conosce non sai nulla dell'incidente eccetera così verifichi un attimo se è vero oppure no e perché peccato non poter registrare e questo è un peccato però non hai modo di registrare no come fai a registrati no perché se telefoni non puoi più registrarti vabbè vabbè mi fai mi fai saper sì sì ti passo il numero quando lui ti dice ok tu gli dici bon perfetto perché ho anche l'inverter in macchina e un monitor che così la proviamo e dopo dici così e ti dice di noi capito comunque fammi capire se è vero o no quello dell'incidente se fosse vero ti dice ho fatto un incidente è a padova ma fino a prima doveva essere due minuti qua che a 30 chilometri 40 esatto tu hai l'inverter e hai un monitor perché la vuoi usare in macchina e anche l'impianto stereo la usi in macchina però non dirlo subito prima mettiti d'accordo sul prezzo che è 35 euro 35 esatto e basta insomma se non è vero che è una balla l'incidente eccetera lo faccio chiamare da tutti quanti hai capito è peccato non registrare voi è quello è un peccato ma d'altronde come si fa ovviamente se dovesse essere vero che sto ragazzino ha fatto un incidente eccetera chiaro che avrei annullato questo video e non avresti visto neanche la parte fin qua no però se invece è una truffa come puzza me che ormai sarò anche giovane ma ne ho vissute di esperienze iniziamo a farlo chiamare da tutta italia fermo resisti marco eccolo la il marco è l'ho parlato e mi ha confermato la storia dell'incidente ah è vero prima dimmelo a lui mi spiace in questo momento non posso parlare quante coincidenze insomma sono ancora al centro commerciale polo no cazzeggiando rassegnato dalla telefonata che abbiamo fatto guardo c'è un altro di mestre che vendeva l'xbox one allora lo chiamo e gli faccio guarda io sono di passaggio su dove ci possiamo trovare stasera guarda momentaneamente sono a zellarino e lui mi fa ma anch'io sono di zellarino e ciò ho detto che coincidenza dove ci possiamo trovare gli faccio ma guarda dimmi tu io intanto sono al centro commerciale polo e lui mi fa ma anch'io sono al centro commerciale polo ho detto no io sono col camper insomma era qua fuori dalla finestra grande grande iuri numero uno numero uno no psi s*****o che ho detto solo lui no cazzeggiando bip 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 non sono quelli che mi hanno venduto l'xbox sono i tu da zellarino perché nei commenti hanno letto che ero a zellarino e ho detto dai dai che vengo a trovarti e aspetta ma cos'è che hai scritto sono dietro al polo ma sto polo cambiamo una curiosità perché ragazzo magari era un po in imbarazzo è l'unica roba che aveva zellarino più o meno mi ha capito sperato ma non che sei tanto è dubbiamente polo e campi il mio odierà a zellarino e a marghera singano che stai in tic***o a tutti no 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 sei sotto registrazione hanno detto che verranno al raduno senza ma senza se senza forse il nostro bestione da 475 esattamente il wingam che si ricca per cui chi mangia i gatti perché si deve cenza grazie Eccolo! Eccolo!